Il sindaco Daniele Zanzi, la prima seduta del Consiglio Comunale, c'è una grandissima partecipazione di cittadini, se l'aspettava? Sì, è proprio quello che noi vogliamo, che i cittadini tornino a impossessarsi di questa città. Faremo di tutto perché la partecipazione aumenti, io vorrei fare tanto, lo faremo, una giunta, uno dei prossimi consigli comunali sarà sotto il cedo del Libano di Villa Mirabello, come simbolo della città giardino. Quindi vediamo. Bellissimo, quindi un consiglio comunale itinerante all'aperto. In mezzo al nostro verde, in mezzo al nostro verde. Diciamo che sono molto emozionato anche perché due anni fa quando ci siamo trovati in sei amici a un bar alla cupola per parlare dei problemi di Varese, nessuno mai avrebbe immaginato che dopo due anni 2.0 avrebbe avuto un vice sindaco, due consiglieri comunali, ma soprattutto ha proposto e messo sul tavolo idee nuove di partecipazione e idee programmatiche per lo sviluppo della nostra città. Quanto lei è anche l'importante delega alla polizia locale, quali saranno le prime azioni di settimana prossima? Sicuramente andrò a trovare il comando dei vigili, sicuramente come ha già detto il nostro sindaco la sicurezza non è di destra né di sinistra, non tollereremo nessuna illegalità e faremo in modo che Varese continui e torni ad essere una città sicura.